Sofia Rebora, LPM che è in semifinale di Coppa Italia, abbiamo rivisto una bella squadra, una bella partita e una Sofia Rebora sorridente e contenta di questa prestazione Sì, rispetto all'altra volta sono un po' più contenta No, diciamo che mi è piaciuto un po' di più l'approccio che abbiamo avuto a questa partita eravamo un po' più tranquille, ci siamo guardate negli occhi dicendo che comunque noi siamo una bella squadra stiamo forti, alla fine si è visto, quindi io sono molto contenta dobbiamo cercare ancora in qualche momento di mantenere comunque la lucidità però è già un passo avanti, quindi sono molto contenta Qualche difficoltà nel secondo set, però poi vi siete riprese subito nei set successivi Sì, abbiamo un po' calato l'attenzione, come ho detto, magari in alcune situazioni di gestione di errore o alla difesa, però rispetto ad altre volte poi siamo tornate nei set successivi in campo con un'altra determinazione Missione compiuta dunque questa sera e domenica c'è un appuntamento molto difficile perché si va in casa del San Giovanni Marignano Sarà una partita bella tosta perché nonostante non hanno il primo pelleggiatore hanno vinto credo 3-0 e quindi comunque sono la prima forza dell'altro girone, sarà una bella battaglia Dobbiamo essere, non avere paura, non avere timore, cattive come sempre Avete un conto aperto con la Coppa Italia, dunque si andrà in Emilia per cercare la vittoria Eh sì, io poi dopo due anni, diciamo che non c'è due senza tre, mi auguro però sarà sicuramente difficile, ma io mi auguro meglio, ecco Grazie e complimenti